Per chi si fosse perso il primo incontro, vi ricordiamo che il ciclo è organizzato da ASNU APS, che è l'Associazione Scienze Naturali Unite, fondata questo settembre del 2020, con il patrocinio del corso di studi in Scienze Naturali della Federico II e la Società dei Naturalisti in Napoli. Oggi con noi abbiamo il professore Ottavio Soppelsa e il nostro socio, nonché tesoriere, Marcello Bizzarro, a cui passo direttamente la parola. Buonasera a tutti, iniziamo con le presentazioni. Oggi il relatore è il professore Ottavio Soppelsa, molti di voi l'avranno conosciuto durante la propria carriera universitaria. Il professore è dal 1997 e docente di zoologia presso l'Università Federico II di Napoli. Oltre appunto che essere studioso di zoologia è anche appassionato del folklore meridionale. Dal 2016 attiva il corso di etnozoologia, un corso molto particolare nel suo genere perché appunto è un, possiamo dire, unico nel panorama universitario. E dal 2016 è anche autore del Dizionario Zoologico Napoletano, un'opera, possiamo dire, decennale che ha impegnato il professore per diversi anni nella raccolta delle più di 3.600 voci. E niente, oggi ci parlerà del rapporto, possiamo dire, di amore e odio tra la nostra specie e il lupo. Quindi lascio la parola al professore. Grazie Marcello, grazie a tutti voi perché iniziative del genere fanno vedere quanta voglia poi ci sia di scienze naturali e in genere di argomenti che trattano animali, piante. Parlare del lupo è senz'altro una cosa difficilissima perché sono state scritte tonnellate di cose. Libri in tutti i rami del sapere, romanzi. Come vedremo, insomma, cercherò di toccare parti, anche se è possibile, non dico inesplorate, ma sicuramente diverse. E la mia presenza in un ciclo di seminari del genere, più che come esperto di lupo, è dovuta molto probabilmente proprio a questa particolare configurazione dello studio uomo-animale. In effetti io partirei a questo punto con la presentazione per arricchire di colori i vostri schermi da un lato e per accompagnarvi in qualche cosa che sia più piacevole poi della semplice parola. Per questo provo a condividere lo schermo, anzi la presentazione. Dunque, partiamo da una copertina che ha anche di eccezionale. Questo è un film che è stato girato nel 2018, si chiama Alfa. Al di là delle imprecisioni che potrete trovare nel film, sicuramente è un film coraggioso che racconta del rapporto uomo-lupo e dei primi momenti della sua domesticazione. Mi esprimerò in maniera strana in relazione alla domesticazione del lupo da parte dell'uomo, perché a mio avviso ha connotazioni diverse. Ho voluto insieme ai ragazzi dell'ASNU, ormai ai dottori dell'ASNU, intitolare questa presentazione Amici-Nemici, perché il rapporto uomo-lupo è un rapporto non solo fatto di conflitti, di contrapposizioni, ma anche un antichissimo rapporto, una storia antichissima di amicizia. Tant'è vero che i primi reperti che ci testimoniano quella che qualcuno chiama domesticazione sono sicuramente precedenti ai 15.000 anni fa. Qualcuno retrodata questo periodo addirittura a 30.000 anni fa. In effetti stabilire in maniera puntiforme quello che può essere l'inizio di questo rapporto è una cosa non solo difficile, perché è avvenuta sicuramente contemporaneamente in più parti della Terra e con più varietà di lupi, popolazioni diverse, ma ha avuto poi connotazioni e motivazioni diverse. Perché ho detto che mi esprimo in maniera un po' diversa dal coro quando parliamo di domesticazione del lupo, io più che una domesticazione parlerei di una simbiosi mutualistica. Simbiosi che vede il rapporto uomo-cane o uomo-lupo all'inizio trasformarsi in una serie di attività che vedono quasi sempre, a meno che non ci sia il sopruso da parte della specie uomo che spesso dimentica di essere parte dell'armonia e diviene signore padrone, diciamo che quando il rapporto è equilibrato e all'interno del cerchio dell'armonia è un rapporto sicuramente mutualistico. A differenza di altre specie che magari invece essendo allevate per uno scopo preciso portano la caratterizzazione delle, quelle che potremmo chiamare razze, a qualcuno non piace la parola, varietà, sottospecie, le porta in una direzione particolare. In effetti quello che poi diverrà il cane o la storia con questo canide che sicuramente parte con l'essere lupo è una storia antica. Qua vediamo per esempio l'ultimo abbraccio rimasto fossilizzato in quello che vedete sulla sinistra essere questo reperto. Ma il cane in qualità di discendente del lupo accompagnerà l'uomo sempre anche nel suo ultimo viaggio, lo vedremo, in moltissime culture e civiltà. Nei sarcofagi che ci sono nella chiesa di per esempio Santa Chiara trovate una serie di cani sotto i piedi dei cavalieri che sono sepolti lì. Non è una sottomissione, bensì un accompagnamento. L'antica storia del lupo nella zona però con le civiltà non si ferma a quella che può essere appunto questo rapporto scambievole ma diviene un punto di riferimento cultuale nel momento in cui le popolazioni decidono di seguire degli animali chiamati, considerati totemici. In particolare i popoli italici, le tribù italiche, seguiranno questi animali totem in modo tale da creare nuove popolazioni in un primo momento, nuovi villaggi e poi addirittura popolazioni che si insediano in aree vaste. Tra queste ricordo una tra tutte gli irpini dalla parola irpus che significa proprio lupo e che secondo la tradizione ha visto questo popolo guidato proprio da un lupo. In effetti i popoli italici avevano una tradizione quando la tribù, la popolazione di una determinata area aveva raggiunto limiti massimi, i giovani che avevano superato la prova per passare all'età adulta o appena in età per passare all'età adulta venivano incamminati, guidati da un animale totemico a cercare una nuova terra per creare un nuovo villaggio. Questa azione era chiamata Ver Sacrum, quindi Primavera Sacra e gli irpini si vuole che siano stati guidati appunto da un lupo. In effetti tutta l'area dell'Irpinia, ma anche i vari sanniti, ma come vedremo tutta l'Italia in particolare centro-meridionale avrà una connotazione e un rapporto strettissimo con il lupo, talmente tanto stretto che in ogni cultura, in ogni popolazione diversa troveremo delle testimonianze. Qui per esempio vediamo un elmo a forma di lupo, già è abbastanza recente rispetto a qualcosa che vi presenterò appena dopo. Qui vediamo un cardiofilax, cioè uno scudo che, come potete vedere sulle incisioni, lascia intravedere dei cani in atteggiamento di invito al gioco, in effetti molto probabilmente lupi, anche perché su uno scudo di tradizione sannita è chiaro che il lupo rappresenta un animale più appetibile del cane da mettere su uno scudo. E questo atteggiamento però di invito al gioco è importante per capire anche la capacità di osservazione anche nell'ambito comportamentale che già avveniva migliaia di anni fa. In effetti parlare del lupo significa però parlare anche di divinità, di popolazioni che vedono del sacro in questa figura, per gli etruschi, gli italici, anche per i greci. Questa figura è una figura di riferimento e vedremo poi come, anzi lo vediamo subito. In effetti questa immagine che ho riproposto con uomini che hanno un copricapo con una sorta di lupo, con la testa del lupo, spesso rappresentano, personificano delle divinità di passaggio come Aita o come Ade. Quindi una divinità Ktonia, che significa Ktonia, che ha a che fare con gli inferi intesi non come inferno ma come mondo che vive al di sotto della superficie terrestre e che quindi ha a che fare con il regno dei morti. Un regno che non viene visto come maledetto, demoniaco, come faremmo probabilmente oggi, ma come un luogo di silenzio in cui i trapassati sono i più e tra loro ci sono i discendenti, gli antenati, gli avi. Quindi è un luogo dove qualsiasi persona dell'antichità aveva grandissimo rispetto e grandissima considerazione. In effetti, come vediamo, la rappresentazione di quest'uomo con copricapo lupesco, lasciatemi passare l'aggettivo, è in varie forme, statue, vasi, affreschi e non mancano anche altre tradizioni che ci vengono poi tramandate e testimoniate da autori storici, come per esempio quella degli Irpisorani. Gli Irpisorani sono una popolazione che viveva sul monte Soratte, nella zona sempre laziale, e che si narra camminassero sulle braci ardenti tra le altre cose, indossando tra l'altro un copricapo, anch'essi fatto con la pelle di lupo. Questa costante riproposizione del lupo diviene anche qui per demone, non intendiamo demone, cioè dell'inferno, bensì un daimon, una forza kettonia anche qui, e poiché potente e capace di portare anche problemi, pericolo, viene trattenuta da queste figure per evitare che esca all'esterno. in qualche modo, non solo in sembianza di lupo e basta, ma a volte anche in sembianza di uomo-lupo, come vedete nell'immagine, nel rilievo a sinistra, a destra, scusate. In effetti queste stelle funerarie, questi bassorilievi funerari, sono poi seguiti da una serie di tradizioni, sempre legati all'Italia centrale, che raffigurano spesso o una coppia di gemelli allattati da una lupa, o anche singoli nascituri, o meglio neonati, allattati da questa forza ferina della lupa. E, come sapete, leggenda vuole che tra queste tante tradizioni ci siano i due famosi gemelli, Romolo e Remo, che rappresentano, escono fuori dal mito e divengono parte del mito di fondazione di Roma. Mito di fondazione che, in alcuni manufatti, come questo splendido specchio di Bolsena, vede Remo guardare verso fauno, verso il selvatico, verso quello che è la natura primitiva, e Romolo, invece, guardare verso latino, che rappresenta la civilizzazione, la cultura che si fa società. E quindi anche qui questa dicotomia, che poi vedrà prevalere Romolo nella fondazione di Roma, non come alternativa, come vedete, al lupo, alla lupa, ma alla natura primigenia come fauno. Quindi vedete che il lupo e la lupa stanno in una posizione centrale di traghettamento. E nel mito di Romolo e Remo, anche qui, anche se io non sono un esperto, ma tento di comprendere quella che è stata l'importanza del lupo all'interno della mitologia italica. Qui vedete che, da un lato, il pastore Faustolo osserva i due gemelli, sarà poi il padre adottivo dei due che daranno luogo poi anche alla fondazione di Roma, e dall'altra parte, sulla sinistra, il Tevere, che lascia scorrere le sue acque sulla terra laziale. Passando a un'altra cultura, sebbene noi, soprattutto nel sud Italia, abbiamo avuto poi una serie di sincretismi, di fusioni tra la cultura italica e appunto quella greca che adesso vi vado a proporre, passando a un'altra cultura, Apollo è la divinità che è più maschile, che più ha a che fare con il lupo. Infatti, l'Apollo liceo, l'Ucheos, è quello che ha a che fare con la figura del lupo che qui vedete sullo sfondo, ancora nelle iconografie appartenenti al XVII secolo. Qui siamo in un testo datato 1626 e vediamo ancora l'iconografia di Apollo insieme al lupo. Ma la tradizione ovviamente greca che vedeva il gruppo familiare di Apollo, Leto e tutte altre divinità legate al lupo è antica. Tant'è vero che sulla numismatica di varie zone greche il lupo è rappresentato molto spesso, a volte anche insieme a figure come i delfini, che hanno un sistema e una raffigurazione completamente diversa a volte. Ritorno in zona italica perché in effetti dobbiamo dare uno sguardo a quelli che sono i famosi lupercali. Che cosa sono i lupercali? Ebbene, i lupercali sono dei giochi scusatemi solo un attimo, eccoci, dei giochi che si tenevano nel periodo di metà febbraio e dove degli uomini che partivano dalla grotta, dalla caverna in cui sarebbero stati, secondo il mito, allattati Romolo e Remo, partivano in una corsa, seminudi, in una corsa veramente forsennata e frustavano le donne che trovavano sul loro cammino, frustate che non servivano alla violenza in sé per sé, ma servivano a risvegliare la fecondità primaverile affinché si iniziasse di nuovo a procreare. e osservatore di tutto ciò fa uno che qui vedete sulla destra dell'immagine in alto, su un promontorio, osservare queste sfilate che avvenivano lungo il colle. In effetti qualcosa di questi lupercali sarebbero poi sopravvissuti anche nel carnevale. Vedete ancora la lupa e i gemelli del mito di fondazione presenti, anche se questo è un quadro relativamente recente. I lupi, essendo considerati genitori adottivi del fondatore di Roma, non venivano mai adottati nelle venazioni, cioè in quei giochi che vedevano l'uccisione di animali selvatici, cioè le competizioni legare, bensì erano presenti come in quei giochi, o meglio più che giochi in quelle condanne a morte, che erano chiamate d'annazio ad bestias, cioè lì dove gli animali selvatici avrebbero sbranato degli inermi condannati legati spesso a pali. e quindi la partecipazione del lupo era legata a questo ambito. Dobbiamo parlare ancora di un ambito cultuale quando parliamo del lupo. In effetti vi sono molti animali che nella cultura mondiale, e anche se noi però rimaniamo sempre in ambito mediterraneo, sono considerati psicopompi. Per psicopompi si intende, è un animale psicopompo, o un animale psicopompo, quando traghetta un'anima verso l'aldilà, un'accompagnatura di anime. Ebbene, tra questi animali più famosi li vedete ritratti in questa slide, la lucciola che in antichissimo nome campano, ma diciamo così magno greco, era chiamata Ascia-Catascia, lo svasso, chiamato pure a Napoli a morte, perché silenzioso fluttua sulle acque, e poi, oltre all'aquila, che ci aspetteremmo, abbiamo ben due animali psicopompi riconducibili alla stessa specie, cioè il lupo e il cane poi. Ebbene, il lupo come animale psicopompo da alcuni è stato proposto così perché si sarebbe fatto vivo in tempi particolari, come le carestie o i periodi in cui le guerre davano l'uovo a molti morti, anche perché in questi periodi le sepolture erano più superficiali, non si aveva il tempo di scavare come si deve per seppellire i vari defunti, e quindi questi morti sarebbero stati poi oggetto di pasto da parte dell'opportunista lupo, perché come sapete da un punto di vista alimentare il lupo è un opportunista che riesce spesso a sbarcare il cibo anche in condizioni difficili. Ma il problema, in effetti, secondo Rao che scrive, avrebbe questo tipo di, l'origine di psicopompo avrebbe questo tipo di origine, questo tipo di motivazione. In effetti, secondo me, la ragione più plausibile è proprio, questa potrebbe essere una parte della spiegazione che avalla la presenza del lupo in presenza di cadaveri, e quindi di anime da traghettare. Ma la spiegazione più autentica, secondo me, è da ricercare nella vicinanza della figura del lupo, come abbiamo visto, ad Ade e a quelle divinità ctonie che da sempre hanno caratterizzato anche i culti italici, tra i quali anche la femminile Ecate, la stessa versione di Diana, alter di Diano o di Giano, se volete, ma questo sarebbe un altro capitolo che aprirebbe una serie di altre discussioni sul naturale e sul sacro, che figura femminile della notte Ecate avrebbe ancora, come animale accompagnatore, il cane nero o anche lo stesso lupo. La figura del lupo viene vista ancora nel periodo del XV secolo come una figura alchemica in grado di divorare il re e una volta bruciato il lupo restituirebbe il re, quindi lo farebbe rinascere a nuova vita. Poco voglio investire in questa relazione sulla figura alchemica del lupo, perché altrimenti andremo fuori traccia, ma voglio sottolineare lo stretto legame uomo-lupo come anche proprio incarnazione coniugata tra l'essere umano e il lupo attraverso le credenze della licantropia. Ebbene, alcune tradizioni vogliono che chi nasca nello stesso giorno in cui nasce il Signore, quindi nella notte della Vigilia di Natale divenga poi un licantropo, ma questa è una delle leggende che poi si svilupperà durante il cristianesimo. La licantropia è documentata anche in ambito romano e greco e anche più antico e come avete visto anche dalle sculture presenti in ambiente italico, questa fusione tra uomo e lupo ha sempre attratto curiosità e elementi di varie persone. In effetti una spiegazione della licantropia potrebbe essere dovuta sia a persone con ipertricosi, quindi con peli evidenti su tutte le parti del volto, delle mani, del corpo, sia probabilmente a persone che avrebbero sofferto di rabbia silvestre. Contro la prima ipotesi c'è il fatto che i malati, o meglio, le anomalie da ipertricosi sono rare e quindi la licantropia sarebbe stata meno conosciuta e invece contro la seconda ipotesi, quella della rabbia silvestre, ci sarebbe il fatto che chi soffre di rabbia silvestre non si palesa solamente durante la notte. In effetti, secondo me, le tradizioni dell'una e dell'altra legate poi a una serie anche di disturbi bipolari da parte di alcune persone che si impersonano con le strategie anche etologiche del lupo hanno dato luogo poi a questa sorta di leggenda, tra l'altro immaginate che alcune popolazioni imitavano nell'essere uomini combattivi le fattezze del lupo indossando quei famosi copricapi e quindi questa emulazione avrebbe poi portato ad ammirare in qualche modo un comportamento tra virgolette licantroco. Ma non sono un esperto in materia e sono stati qui in questo filone veramente scritte e tantissimi libri, manuali e altre opere. Della pelle del lupo sono stati fatti molti manufatti che come vedremo rientrano molto spesso nell'ambito apotropaico ma anche c'è cinture, pelli, rivestimenti, gli stessi scudisci dei luperci, quindi di coloro che portavano avanti i lupercalia potevano essere di capra o di pelle di lupo, di capra come vittima del lupo, di lupo come protagonista. Ma non dobbiamo dimenticare anche l'uso rituale del consumo della carne di lupo. La carne di lupo non è una carne gradevole e non è mai stata utilizzata come alimento di per sé se non attraverso un'operazione rituale e parte di queste operazioni avrebbero potuto scatenare anche epidemie di rabbia silvestre. Considerate che ancora nel 1972, stavolta però, in maniera come rivalsa e come odio nei confronti del lupo, fu consumato un lupo abbattuto anche se già specie protetta nella zona del Castel di Sangro presso l'Aquila. Fu cotto al forno con le patate e questo lo racconta in un libro Todaro nel 2007. Ma ancora nel 1955 sono riportati passaggi dove dicono tradizionale pietanza a base di carne di lupo con un intingolo di salsa forte e aromi per stordire il salvatico sapore. Beh, in effetti è in questo caso una pietanza rituale. Beh, probabilmente nel passato questa ammirazione per il lupo portava a consumare un pezzetto della sua carne per assumere la sua forza del suo vigore e come vedremo questa storia non è non è rara. Tant'è che in Plinio nella Naturalis istoria di Plinio noi vediamo come non solo la testa seccata neutralizzerebbe i malefici se appesa fuori dalla porta e quindi qui passiamo all'ambito apotropaico superstizioso ma avrebbe il lupo una serie di poteri tali da ottenebrare e far assopire se non addirittura morire i cavalli che ne calpestassero le orme le impronte questa tradizione è riportata anche da Eliano ma come vediamo poi in questa slide che ovviamente non vi leggerò ma passerò per punti si passa da rimedi che vedono il lupo contro malefici quindi da in maniera talismanica a talismani amuleto cioè più che talismanica scusatemi come amuleto talismane è un'altra cosa guariscono invece malattie del colon i denti servirebbero a preservare dai disturbi della dentizione o ancora da febbri fisse si crederebbe che l'occhio di lupo conservato sotto sale sarebbe efficace e così per il mal di fegato altri tipi di di amuleti fino ad arrivare a un cure da voltuio legato intorno al braccio con una pelle di lupo qui parla ancora praticamente non è Plinio ma Sesto Placito in effetti si passa però nella stessa naturalis istoria anche a rimedi di tipo medico perché si pensa che escrementi di lupo disseccati e disciolti in grasso possano essere usati per curare la cataratta oppure insieme al grasso di lupo possa essere usato per le congiuntiviti per i denti che traballano la cenere di lupo e così via quindi preparazioni da farmacopea anche se poi chiaramente molte di essi o meglio non trovano la loro vera efficacia se non da un punto di vista psicologico parlare però di amuleti non non finisce con la classicità considerate che ancora Bellucci nei primi del novecento fa una serie di colleziona una serie di amuleti di origine animale che hanno come protagonista il lupo che dal budello di lupo anzi di lupa che preserva le puerpere durante la gravidanza si passa a ciuffi di lupo fermati da una fibbia un bocciolo d'argento denti di lupo che servono contro varie malie quindi contro il malocchio che o fascinazione se volete e così via addirittura fino ad arrivare a zampe inchiodate che servono a preservare i luoghi in cui sono affissi appunto dalla fascinazione addirittura poi cinture che contro l'epilessia cinture di pelle di lupo contro l'epilessia ma contro il morso di lupo si usa l'antagonista o meglio la vittima del lupo la capra e quindi lo sterco della capra in particolar modo o la cenere del cuore e del polmone dell'animale stesso come avete visto fino ad ora e cerco di avviarmi verso la fine per non tediarvi perché se no va a finire che ci perdiamo nei rivoli quello che è stato interessante fino ad ora a mio avviso è vedere questa grossa dicotomia tra il lupo amico e il lupo nemico in quale momento il lupo da animale totemico da punto di riferimento da divinità da accompagnatore di anime diviene il malvagio il funesto l'animale da uccidere e eliminare per sempre persino nelle favole il lupo anche se a volte è malvagio è l'uccisore del capretto dell'agnello è visto in una maniera particolarmente benevola come vedremo il problema è che verso allora già il passaggio al cristianesimo tra il quarto e il quinto secolo vedrà cambiare questo atteggiamento dell'uomo nei confronti del lupo insieme al fatto che ci sarà una riduzione delle zone urbanizzate a favore del bosco in espansione e in particolare poi anche all'aumento della pastorizia ebbene queste tre componenti saranno le responsabili del cambio di cultura nei confronti del lupo quindi da un lato la necessità di avere di preservare il greggio e dall'altra il fatto che il lupo abbia accompagnato divinità e sia stato un animale totemico nel paganesimo lo vede in viso e lo vede protagonista di malefatte sempre più gravi durante il periodo invece dell'espansione cristiana fino a divenire oggetto insieme a una serie di altri animali che si sono macchiati di colpe di processi che vedono condannati i colpevoli immaginate che si sviluppavano processi contro le cavallette contro i maggiolini i gatti i maiali che magari purtroppo entravano in case con le porte aperte e ammazzavano i bambini il lupo però nei processi svolti dalla chiesa nei confronti degli animali che commettevano delle malefatte è sempre molto poco presente perché perché colpevole di base quindi non aveva quasi mai bisogno di un processo era colpevole a prescindere e questo fatto lo vediamo anche in un passaggio dalla fabbola che è un racconto metaforico che vede come protagonisti gli animali dove il lupo spesso è simpatico goffo fa una viene deriso oppure porta a una morale importante alla fiabba dove invece è il protagonista cattivo che minaccia dal profondo del bosco tutti gli esseri umani tra i quali per esempio cappuccetto rosso è interessante vedere come già in questo basso rilievo presente a rotello nel molise risalente all'anno 1000 circa sia raffigurata una bambina vicino a un lupo in atteggiamento aggressivo in effetti la fiabba di cappuccetto rosso avrebbe origini antiche sebbene con modalità diverse nella fecunda ratis di Egberto Dalieggi si racconta di una storia di una bambina con una mantella rossa che però vive in mezzo ai lupi le implicazioni e gli significati metaforici di cose di questo genere ci porterebbero via altri minuti e quindi fermo qui questo tipo di trattazione magari riservandola a vostre successive riflessioni documenti che testimoniano la lotta al lupo anche ai fini della villa la villa intesa come masseria come zona di produzione risalgono in maniera già ben radicata a Carlo Magno che all'interno del suo capitolare De Villis scrive che voleva essere aggiornato costantemente sia su quanti lupi fossero stati catturati sia poi gli si doveva mostrare le pelli degli esemplari uccisi e a maggio bisognava andare a uccidere pure tutti i piccoli lupi che erano nati ebbene questa guerra diventa sempre più serrata nei confronti del lupo tanto che un reggimento di santi un esercito di santi in parte convertirà i lupi in parte li indurrà in buone opere a una sorta di buon comportamento il più famoso tra tutti è sicuramente San Francesco dove però il santo che era animalista convinto come sapete o meglio più che altro un amante di tutte le forze della natura chiede a coloro chiede al lupo di diventare mansueto ma alle popolazioni poi di prendersi cura di esso cioè di dargli da mangiare esistono però una quantità di raffigurazioni e di implicazioni di santi che fermano la cattiveria del lupo dove per esempio il lupo riporta il porco alla donna a cui l'aveva sottratto oppure si pente di aver aggredito il bambino eccetera eccetera tanto che in Italia centro-meridionale centinaia di comuni hanno storie e leggende legate a questi santi che mitigano il comportamento dei lupi ancora nel 1600 ci sono manuali che parlano di come i lupi dovessero essere cacciati per poter ridurre il loro numero e poter godere dei piaceri della villa quindi della masseria in particolare in questo testo è aggiunta in questa edizione come potete vedere una caccia al lupo con tutta una serie di trattazioni per i cacciatori di lupi il metodo più facile e meno rischioso per chi voleva tendere una trappola al lupo è la famosa fossa luparia la fossa luparia conosciuta fin dalla prestoria una fossa dove si metteva dentro un'esca che serviva ad attrarre il lupo e ovviamente poi il malcapitato cadeva in essa e sarebbe stato poi successivamente o ucciso o catturato vivo ebbene queste fosse luparie il toponimo fosse luparia è presente nelle nostre zone campane anche presso Sarno vi è un fosse lupara ma in moltissime parti della nostra penisola ovviamente in questa fossa luparia cadeva un po' di tutto e quindi a volte anche gli stessi figli di coloro che avevano scavato la fossa luparia quindi si cercava di segnalarle o di renderle visibili a coloro che non avrebbero dovuto poi finirci dentro una fossa lupara già evoluta era una fossa che come quella che vediamo in questa immagine era usata una pecora un agnello vivo una pecora viva come esca e il lupo nel tentativo di giungere all'esca sarebbe caduto poi nella fossa metodi per uccidere battaglie e campagne antilupo battute antilupo prevedevano l'uso di cani di anche armi di fortuna come forconi e varie ma anche archibugi trappole come vedremo anche trappole ma la caccia al lupo è testimoniata come vedete qui in un'opera che parla di Venaziones già all'inizio alla fine del 500 o ancora più avanti da questo da Van de Straert famoso per aver illustrato una serie di cacce qui già vediamo perché Van de Straert già descrive tecniche di caccia qui ne vediamo varie in cui si usano delle paratie che servono ad evitare i punti di fuga del lupo e l'utilizzo dei cani per braccarli e sbarrargli la strada ma ancora vi sono cacce al lupo famose insieme alle volpi perché in questo caso considerati nefasti per sempre gli interessi dell'uomo tra le varie pratiche questa riportata ancora una volta da Van de Straert chiamato in Italia Giovanni Stradano è lo strascino dove le interiore di un asino venivano legate alla groppa di un cavallo attraverso una corda cosparsa dello stesso sterco dell'asino per evitare che si sentisse l'odore dell'uomo e poi alcuni cacciatori appostati avrebbero ucciso i lupi che seguivano questa traccia questa pista un'altra trappola molto antica che parte dall'età del bronzo ma che troviamo ancora nelle miniature medievali è questa sorta di acchiappazampa diciamo che bloccava il lupo e non gli permetteva di più di fuggire se non tranciandosi completamente la zampa e quindi rendendolo meno mato ovviamente questa è la trappola più utilizzata tanto che questa tagliola sopravvive nei secoli e arriva a consegnare purtroppo lupi anche nei primi del novecento vediamo anche più cruente armi o trappole come quest'amo a scatto che aprendosi squarcerà letteralmente la bocca del lupo o lo manterrà appeso uccidendolo qui vediamo ancora cappi vari con una serie di esche che vengono allestite alla base della trappola in genere la miglioresca per catturare il lupo era l'asino vediamo ancora immagini di repertorio che trovate un po' su internet un po' su alcuni testi che testimoniano della continua caccia al lupo ancora fino a metà novecento e che da sempre avete visto già da Carlo Magno in poi vedevano premiare questi cacciatori di lupi con o collette che si facevano nei vari villaggi in cui si presentava il lupo o da parte dei sindaci degli responsabili dei villaggi che davano un corrispettivo in soldi in genere per testimoniare il lupo cacciato veniva esposta la testa alla quale però poi una volta corrisposto il compenso venivano tagliate le orecchie per fare in modo che questa testa non fosse usata in altri paesi per percepire ancora la ricompensa e questa usanza ovviamente mi avrebbe fatto parlare anche di lupari nel sud d'Italia ma che mi riservo in una pubblicazione che stiamo mettendo appunto insieme al professor Pollio di parlarne poi magari a pubblicazione avvenuta ebbene qui vediamo ancora parti immagini che vedono come protagonista la pelle di lupo e passiamo siamo quasi alle battute finali a quello che è una specie di cane che è stata selezionata per lottare contro i lupi come guardia del greggio al lupo in effetti Giaco Lumella parla dell'importanza dei cani che devono respingere i lupi nell'essere bianchi e in effetti il pastore e qua leggo la traduzione di Columella apprezza quello bianco essendo esso dissimile dai predatori e questa differenza è utilissima nel respingere i lupi nel buio del primo mattino e anche del crepuscolo affinché il padrone non ferisca il cane al posto della belva quindi come vedete questa esigenza di selezionare un cane bianco come cane da guardia del gregge da pastore nel senso non come conduzione ma come guardia è antica quindi il pastore abruzzese svolge egregiamente questo ruolo da sempre e un attrezzo spesso visto come collare al pastore abruzzese è il famoso che serve a mantenere lontano il lupo è il famoso vreccale o roccale che è un guinsaglio fatto un collare fatto di spine di ferro un tempo addirittura in anni millenni addietro fatto invece con pezzi anche di murex bolinus brandaris quindi del famoso murice spinoso diciamo che serviva a dissuadere il lupo dal mordere al collo il cane che faceva da guardia alle pecore passiamo adesso a una veloce disamina dei proverbi che riguardano il lupo passiamo dal famoso e antico homo homini lupus fino ad arrivare che ne so al lupo per il pello ma non il vizio castiga il cane il lupo ma non il pelcanunto eccetera eccetera e chi nasce lupo non muore agnello beh dobbiamo però tener conto in tutto questo della presenza di una serie di toponimi che si basano sulla parola lupo o comunque che hanno il lupo come protagonista e che sono veramente tantissimi io ho selezionato soltanto alcuni riguardanti il sud Italia e alcuni studi anche su riviste importanti come Nature hanno utilizzato i toponimi per ricostruire anche degli antichi areali di presenza di alcuni animali selvatici come il lupo l'urso questi toponimi in effetti se si riesce a stabilire anche l'antichità del nome stesso si riesce a testimoniare la presenza in quella zona di quel tipo di animale ebbene il lupo la fa un po' da padrone in moltissime zone che a volte non ci aspettiamo neanche possano essere state invece protagoniste della presenza del lupo il lupo è anche in maniera molto efficiente a volte protagonista di cartoni e fumetti sebbene poi non abbia questa presenza enorme eccessiva ma ha i suoi rappresentanti e sicuramente al lupo sono stati dedicati una serie di film qui ve ne è una piccola selezione dove dedicato all'alicantropia ce n'è solo uno il primo che è uscito che è del 1913 poi ho preferito selezionare una serie di titoli che invece parlino del lupo in quanto tale del rapporto uomo-lupo oppure di storie come per esempio balla coi lupi o alla fine come storie che parlano della domesticazione del lupo se preferiamo usare della simbiosi mutualistica con lupo che è il film alfa uscito nel 2018 al di là di qualche lettura consigliata non mi resta altro che concludere e ringraziarvi ancora per avermi dato questa opportunità di parlare di etnozologia del lupo grazie professore è stato interessantissimo e abbiamo già una primissima domanda da un nostro follower di 5 anni addirittura la mamma Viola ci chiede se c'è qualche libro adatto ai bambini su Romola e Remo per capire la leggenda con la lupa a qualche consigliata riguardo ce ne sono tantissimi di testi scritti in questo senso un film che può essere più facile da proporre ai bambini che è uscito da poco anche se a me non è piaciuto moltissimo per la sua ricostruzione storica e che non solo io ma i critici cinematografici ma più che altro archeologi hanno definito un'occasione mancata può essere proprio il primo re che è uscito in questi giorni penso su piattaforme probabilmente visto che al cinema non ci si può andare su libri che parlano di mitologie ce ne sono vari anche affumetti che hanno ben rappresentato la nascita di scritti di libri di testi scritti della leggenda di Romola e Remo ce ne sono talmente tanti che diventa difficile fare una selezione oppure bisogna prendere dei testi di mitologia per ragazzi dove sicuramente sono narrati con correttezza e a quel punto estrapolare la parte legata sulla fondazione di Roma lo preferirei perché così non si commette quell'errore per esempio che è stato commesso anche nel film dove il pomerium o il solco il mundus il solco di fondazione con l'aratro diventa una serie di fascine messi a terra per proteggere i morti piuttosto che invece segnare il solco di fondazione abbiamo una domanda da Pasquale Borsa sì un attimo solo che probabilmente sta scrivendo se avete domande ragazzi potete scriverle in chat e così li rivolgiamo al professore perché simbiosi mutualistica e non addomesticazione diciamo che addomesticare non lo dovremmo usare dovremmo usare domesticare cioè nel senso di rendere domestico relativo alla domus una delle definizioni più complete della domesticazione è quella che una specie domesticata avrebbe sarebbe indispensabile alla sua sopravvivenza l'uomo e quindi non potrebbe più vivere senza la mano dell'uomo in effetti come vedete il randagismo prova sebbene in maniera un po' deviata la sopravvivenza del cane e addirittura il rinselvaticimento e quindi questo ci fa capire da un lato che non c'è stata una vera e propria domesticazione considerate che addirittura insetti come il bombix mori senza la mano dell'uomo non sopravviverebbero più mentre invece il cane riesce riesce a reinselvaticirsi a ridiventare di nuovo riproduttivo in maniera tranquilla il problema è che nella domesticazione solitamente l'uomo utilizza un solo aspetto della specie o più aspetti immaginate per esempio le pecore vi sono pecore da carne da lana da latte ma quelle a tre vocazioni sono rare in genere poi si selezionano per lana per latte e questo porta a esasperare quel tipo di caratteristica fino a farla diventare appunto non più adatta a riprodursi senza l'opera dell'uomo addirittura immaginate oggi i tori non conoscono più la vacca perché le riproduzioni avvengono solo in maniera artificiale vendendo lo sperma anche da una nazione all'altra e questo accade anche per i cavalli ebbene questo sta portando sempre più a questi animali che si usano per scopi particolari a una impossibilità riproduttiva evidente abbiamo un'altra domanda da Lucrezia Guarino quale potrebbe essere la motivazione della diversa concezione del lupo che osserviamo a nord e a sud del Po allora ringrazio Lucrezia per avermi messo in difficoltà scherzo nel senso che a nord e a sud del Po se intende dire la visione più nordica tipo dei berserker eccetera e quella del sud Italia invece dove o Italia centro-meridionale beh è dovuta proprio a questo all'influsso della visione del lupo da parte dei popoli europei più legati alla zona continentale piuttosto che quella legata alla zona peninsulare dove la convivenza con il lupo diventa un rapporto di ammirazione temuta i popoli invece che più che una pastorizia e un'economia pastorale portano avanti la figura del lupo come emblematica e basta è chiaro che poi vedono nel lupo un diverso atteggiamento da noi invece è diventato anche divinità perché è capace di clemenza nei confronti appunto dei famosi gemelli e quindi nell'allattarli possibile anche scusate se mi intrometto nella risposta una diversa cioè noi abbiamo trattato chiaramente il lupo più legato alla nostra terra appunto alla nostra tradizione il lupo essendo un animale possiamo dire diffuso in quasi tutto il mondo diciamo abbiamo dato una visione limitata della cosa magari nelle zone per esempio nord Europa Asia in cui ci sono delle zone molto più ampie magari ci sono anche dei branchi ci sono stati dei branchi molto più ampi ed era magari un rapporto diverso quello che si instaurava con le popolazioni umane magari potevano essere più non lo so più pericolose più pericolosi quindi beh sì certo il lupo in branchi diventa senz'altro più pericoloso e alcuni lupi cioè il nostro lupo che io sappia è anche più piccolo in taglia qui poi ci vorrebbe proprio un esperto delle varie popolazioni penso che sicuramente differenze dovute a condizioni geografiche e di popolazioni di lupi diverse portino poi a tradizioni diverse ok andiamo avanti Tiziano Trasimondo data l'enorme variabilità genetica dei canidi che ha portato alle razze dei cani dove finisce il lupo e dove si parla di cane questa è una delle è una domanda molto difficile da rispondere perché in generale tutti gli animali se andate a guardare un po' tutti gli animali oggetto di domesticazione o nel caso del lupo io continuo a parlare di una simbiosi mutualistica che porta poi a delle derivazioni ebbene però alcuni canidi sono stati utilizzati per degli scopi precisi a quel punto selezionati per degli scopi precisi e alcuni di essi effettivamente poi hanno delle barriere insormontabili ai fini produttivi immaginiamo un pastore danese un alano e un chihuahua chiaramente da un buddista meccanico non possono più riprodursi al di là del fatto che teoricamente la cosa potrebbe essere possibile in effetti il confine tra cane e lupo dovremmo andarlo a vedere in vari posti del mondo secondo Lorenz si parlava di cane aureus e canis lupus ma secondo un sacco di altri gruppi la domesticazione del lupo sarebbe avvenuta in molti posti diversi e quindi avrebbe dato origine a diverse possibilità di confine tra uomo e cane molto spesso ciò accade per esempio anche con animali chiamate round species dove l'aver conservato in vari luoghi la capacità riproduttiva con quelle che poi divengono specie separate tra loro ha fatto sì che la specie domestica abbia conservato relazioni e capacità riproduttiva con più specie mentre invece quella selvatica non ce l'ha più nel caso invece del lupo so che il randagismo è un problema ancora grande quindi io non parlerei personalmente ma questa è l'opinione è una mia personalissima considerazione io non parlerei di specie diverse tra cane e lupo perché se esistono degli ibridi che sono profondamente fecundi testimonianza sono il lupo italiano e tante altre razze di canidi io credo che non si possa parlare in maniera propria di specie diverse maria vittoria bottigliero chiede lei ha prima lasciato aperta la questione di cappuccetto rosso della sua origine come bambina che viveva con i lupi con la mantella rossa cosa è metafora perché proprio il mantello rosso ma allora la fiabba di solito è uno strumento complesso non è come la favola dove la metafora può essere chiara la fiabba ha protagonisti canonici paradigmatici ha un suo sviluppo tanto che prop ha scritto un testo importante su che cosa e come può essere intesa la fiabba probabilmente cappuccetto rosso è la bimba che passa dalla infanzia all'adolescenza violata da da quest'essere cattivo che è il lupo nella sua essenza di donna e quindi probabilmente questa violenza è testimoniata poi dal mantello rosso con tutte le implicazioni freudiane che potrebbero derivarne però io sono uno zolo che quindi mi devo assolutamente fermare però potrebbe essere effettivamente una spiegazione molto interessante nell'erolata produzione pittorica del centro Italia del 1400 1500 quali potrebbero essere più significative rappresentazioni riguardo il rapporto uomo-lupo sia dal punto di vista positivo che negativo ricordo come Piero e la Francesca avesse rappresentato il corallo rosso o il pelo del tasso in senso apotropaico cioè questo ce lo do quando a Marco Martinelli sì ciao Marco Marco tra l'altro è stato un mio tesista sugli amuleti animali quindi lo ringrazio anche per il suo lavoro che mi ha permesso di allargare panorami da offrire agli studenti in etnozologia sono interessantissime queste raffigurazioni molte meriterebbero uno studio ad hoc nel senso che probabilmente se si riuscisse a catalogare questi dipinti a vederli non più solo non non più non solo nell'ottica artistica storica ma come testimonianza anche di una documentazione dell'animale potrebbero darci molto più di quello che ci hanno dato fino ad oggi anche perché spesso dobbiamo tantissimo agli umanisti che si sono occupati di animali ma spesso lo hanno fatto con gli occhi diletterati e quindi a volte prendendo delle sviste immaginiamo o pensiamo per esempio a quante volte il ghepardo sia stato chiamato leopardo nella storia tanto che si pensa si crede in maniera erronea che il leopardo fosse usato per la caccia invece è il ghepardo ad essere stato usato per la caccia ma questa è un'altra storia Eleonora Manzo chiede legandosi al discorso di magia e medicina di Plinio in tempi più recenti ci sono testi magari alchemici medievali o successivi che trattino gli argomenti sotto un punto di vista simile sappiamo che Plinio ha comunque in suo modo un po' particolare di raccontare le cose ma a riconfrontarlo a testi successivi potrebbe essere interessante eh sì molto tanto che un'altra delle operazioni che se mi riesce di portare avanti farò nella mia vita è la digitalizzazione di una serie di testi che digitalizzazione o meglio informatizzazione archiviazione di una serie di principi in varie in vari ambiti in effetti diciamo che la mia vita fino ad oggi è stata caratterizzata da imprese più o meno impossibili e prima o poi veramente non mi riusciranno più il dizionario zoologico è stato un esempio ci ho messo solo 13 anni diciamo adesso se ce ne dovessi mettere altri 13 non so se ce la farei a finirla questa storia dell'archiviazione ebbene Plinio sì è particolare perché a volte in due righe riesce a coinvolgere un sacco di specie e un sacco di informazioni altre volte poi alcune volte con il si dice si racconta si narra che prende un po' le distanze dall'uso scientifico altre volte invece riporta dei principi in farmacopea e quindi anche lì poi vediamo che molta materia successiva a Plinio molti scrittori successivi prendono questi studi e li dilatano o li trasformano immaginiamo anche quello che ha fatto Mattioli per esempio con Dioscoride Mattioli è molto più recente fa parte del nostro rinascimento italiano e rappresenta una figura che reinterpreta altri principi altri rimedi per cui è interessantissimo questo aspetto e io spero di trovare anche persone che vogliano partecipare a queste imprese si tratta in pratica a volte di trovare dei criteri per archiviare delle informazioni per poi compararle tra di loro secondo lei ancora oggi nel rispetto della conservazione del lupo si dovrebbe tenere in considerazione tra gli end point conservazionistici il valore storico nel rapporto penso ha scritto uomo orso ma credo uomo lupo o tre criteri genetico ecologici ce lo dite secondo me grazie Angelo per aver fatto questa precisazione questo intervento certo che bisognerebbe tenerne conto bisognerebbe tenerne conto se però sopravvivono i presupposti per la conservazione in quel luogo altrimenti significa è un accanimento terapeutico e quindi perché il territorio subisce delle evoluzioni che a volte non rende più possibile la presenza sebbene sia stata storicamente rilevante di alcune specie e quindi noi dobbiamo essere coscienti di questa informazione e quando è possibile senza altro fare in modo che siano un punto di interesse non so se ho risposto alla domanda ma pur leggendola credo che abbia anche altre implicazioni che non riesco al momento a deviscerare quindi se ci fossero delle delle cattive comprensioni puoi senz'altro chiedere ancora ultime due domande Arianna Belfiore chiede secondo lei come mai c'è questo continuo cambio di simbolismo positivo e negativo nei confronti del lupo è una questione semplicemente religioso culturale in senso più ampio allora continua diciamo che il punto di rottura è qui in quarto quinto secolo secondo me perché più che continua diciamo che il lupo è stato sempre visto con un certo timore reverenziale con rispetto da un lato però il cambio è da figura positiva a figura negativa questo avviene tra il quarto e il quinto secolo ripeto a causa di queste tre ragioni principali espansione del bosco in riferimento all'urbanizzazione quindi una contrazione delle città delle aree abitate espansione dell'allevamento ovvi caprino e conquista del potere da parte della chiesa Pierluigi Serravalle si mostra sempre più interesse per i lupi domestici identificati nella nota razza canina del cane lupo ciecoslovacco l'amore per questa razza può mitigare la figura del lupo cattivo allora diciamo che queste operazioni sono delle operazioni particolari sicuramente ci sarà chi parlerà più compiutamente di questo tipo di ibridazioni io credo che mitigare la figura del lupo cattivo a mitigare la figura del lupo cattivo serva conoscere un po' meglio quello che è il reale comportamento e la reale biologia ecologia ed etologia del lupo il lupo soprattutto in Italia è un animale che pur rendersi pericoloso ma non lo fa per persone adulte e raramente che io sappia ma in tempi storici ha attaccato l'uomo che stava probabilmente in difficoltà perché altrimenti è un animale che pur nella sua dignità si misura un attimo la sua circonferenza ed evita la competizione beh certo delle razze che escono furi possono essere interessanti però io non sono un convinto assertore di alcuni protezionismi eccessivi ma oggi le razze canine se non hanno una loro vocazione precisa secondo me non hanno più motivo di esistere stiamo correndo il rischio di perdere l'importanza delle razze canine perché non svolgono più il loro ruolo di compatibilità nei confronti di alcuni tipi di attività e quindi adesso poco poco di soddire invece sul lupo cieco slovacco ultimissima domanda professore si per l'uso cassese chiede brevemente se possibile come si potrebbe riassumere il rapporto di oggi con il lupo allora diciamo che noi oggi siamo in una new age da un punto di vista naturalistico abbiamo superato spero la fase animalista che era una fase infiammatoria dove la reazione a tutto ciò che fosse tra virgolette apparentemente contrario agli animali infiammava e abbiamo preso coscienza dell'importanza dell'armonia naturale delle cose noi dobbiamo rientrare in un cerchio di equilibri dove l'altro cioè inteso come specie rappresenta parte del tutto e non come diverso da noi e basta quindi in questo senso il rapporto di oggi dovrebbe essere un rapporto consapevole di rispetto di consapevolezza di ciò che è stato da un punto di vista iconografico simbologico totemico e anche del capro espiatorio tra l'altro è strano parlare di lupo come capro espiatorio ma il capro espiatorio di tanti mali durante i secoli e quindi dargli un attimo una mano per cui sono d'accordo al fatto che bisogna cercare i punti per risarcire in maniera onesta gli allevatori che ancora pochissimi allevano allo stato brado magari delle greggi al posto di tenerle in allevamenti chiusi ma evitare di parlare di abbattimenti di numeri perché il lupo è una specie molto importante per la selezione naturale delle specie selvatiche e nel momento in cui non c'è più ovviamente si vengono a deteriorare tutta una serie di selezioni che invece sono importanti va bene grazie professore grazie infinita grazie a voi grazie per avermi seguito fino a quest'ora e perdonatemi se sono stato eccessivamente lungo ma la materia aveva molti risvolti infatti ora lasciamo la parola a Dariana Belfiore per gli ultimi saluti quindi eccomi eccomi sì volevo ringraziare ovviamente il professore Soppelsa per aver partecipato come hai già fatto tu Marcello e ringrazio te per averci fatto da moderatore ringrazio tutti i partecipanti vi ricordo che il prossimo incontro sarà venerdì 22 sempre alle ore 17 e vi invito anche a seguirci sui nostri social che sono Instagram come asnu trattino basso scienze naturali facebook asnu associazione scienze naturale unina su youtube asnu apps e anche sul nostro sito web www.asnu apps.it grazie ancora a tutti e buona serata buona serata buona serata buona serata buona serata asnogel Grazie a tutti.